C'è stato anche questo incontro con gli Angerili e risale anche allo scorso novembre. Erano esponenti di una società finanziaria internazionale interessata a sondare vari scenari di investimento nel settore industriale e turistico. C'è voluta un'interrogazione per mettere un punto definitivo alla vicenda relativa all'interesse manifestato da un'accordata algerina per il rilancio del Nevegal. La notizia anticipata dal nostro telegiornale lo scorso 3 gennaio e liquidata con il no comment dell'assessore competente Franco Roccon era stata minimizzata anche dal sindaco De Pellegrin nel servizio andato in onda il 5 gennaio. Io ho solo avuto una telefonata di poter avere un incontro per potenziali persone che possono essere interessate a questo tipo di sviluppo turistico del Nevegal finché non ho cose certe e io sicuramente più di questo non posso dire. Invece le cose stavano diversamente. Ieri sera in consiglio comunale il primo cittadino ha risposto così all'interrogazione presentata dal gruppo Insieme per Belluno Bene Comune. L'incontro con gli imprenditori algerini, non un colloquio telefonico, c'è stato. In questo incontro si è parlato di turismo e le sue aree di sviluppo. Tra queste non poteva mancare il nostro Nevegal e neanche seguita poi una visita e sono rimasti assolutamente colpiti. Non c'è nulla di più. Occhi sul Nevegal quindi con l'idea di ampliare la schiarea con l'ipotesi di realizzare un impianto che salirebbe dal versante trevigiano al Visentin e di investire sulla ricettività del Colle oltre all'interesse ad acquisire il know-how di una delle più note aziende europee nel campo farmaceutico che ha sede a Santa Giustina. De Pellegrin ha parlato di una fase esplorativa del nostro territorio. Certo che rappresenterebbe una grande prospettiva interessantissima per noi per lo sviluppo per il Colle e vi dico che per ora credo che sognare non conti nulla, non costi nulla. Perplessi i consiglieri di Insieme per Belluno Bene Comune visto che è prossima la pubblicazione del bando per la gestione degli impianti del Colle. È evidente che non c'entra nulla questa vicenda con il bando ma non è altrettanto evidente che questa notizia non possa influire sul bando e questo sarebbe abbastanza grave.